Allora Alessandro, un primo torno più facile non ci poteva essere? No no, è stato un match duro oggi, ho giocato circa 8 minuti, poi il mio avversario ha detto basta, quindi è bene così. Vediamo, è iniziato bene questo torneo, dai, sono felice. Adesso ci sarà Adrian Ungur, lo conosci bene? Sì, sì, abbiamo giocato tante volte con Adrian, sarà sicuramente una bella partita, dovrò giocare un buon tennis per riuscire a portarla a casa. In questo 2014 non stai esprimendo forse il tuo miglior tennis, i risultati non stanno arrivando, sei in fiducia oppure no? Padova può essere il torneo della rinascita di Giannessi? Guarda, tennisticamente non mi sto sentendo male, i risultati non sono ancora dei migliori, però sto lavorando molto bene col mio gruppo e spero di riuscire a ritrovare la forma. In bocca al lupo. Grazie.